Valentina Boscaro è stata condannata a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Mattia Caruso, il ragazzo con cui aveva una relazione. Subito dopo la lettura della sentenza, arrivata verso le 21.30 al termine della Camera di Consiglio, la donna è stata trasferita in carcere. La condanna per omicidio volontario, riconosciuta l'aggravante del rapporto affettivo e la calugna, è stato disposto il risarcimento alle parti civili, l'interdizione in perpetuo dei pubblici uffici e la sospensione della responsabilità genitoriale per tutta la durata della pena. Valentina, infatti, è una figlia di 4 anni, avuta da una precedente relazione che ora vive con il padre. L'omicidio di Mattia Caruso era avvenuto il 25 settembre del 2022 dopo una serata che la copia aveva trascorso in un locale di Montegrotto Terme. Un delitto di impeto, una sola coltellata al cuore, inferta con un coltello a seramanico che Mattia aveva in auto. L'arma e la forza usata, ha detto il pubblico ministero Valeria Sanzari, che ha definito Valentina Boscaro manipolatrice e bugiarda, denotano la volontà dell'imputata di uccidere. Valentina Boscaro, hanno sottolineato poi le legali Francesca Betto e Anna Desiderio, che hanno assistito la famiglia di Mattia Caruso, non ha né allertato i soccorsi né tamponato la ferita del giovane, lasciandolo agonizzare. La difesa della giovane donna, invece, ha provato a ricostruire il rapporto violento tra i due fidanzati, citando una foto che ritrae Valentina con un occhio pesto e ribadendo che la ragazza non aveva intenzione di uccidere Mattia. Il coltello, però, è penetrato di 5 centimetri, trapassando torace e cuore, poi con freddezza l'ha estratto e l'ha messo nelle tasche dei jeans del giovane. Dopo la lettura della sentenza, Tino Caruso, papà di Mattia, ha urlato assassina, mentre Valentina usciva scortata dai carabinieri che l'hanno portata subito in carcere. In questi mesi, invece, la donna è sempre stata ai domiciliari. La ragazza dovrà versare una provvisionale di 300.000 euro a testa ai genitori di Mattia Caruso e 100.000 euro a ciascuno dei due fratelli. 4.000 euro, invece, all'amico di Mattia, calugnato, accusandolo in un primo momento, subito dopo il delitto. Tra 90 giorni verranno rese note le motivazioni della sentenza.